Quale grande gioia, oh Signore, nei nostri cuori, perché siamo qui alla Tua presenza e sentiamo il bisogno, la necessità, Signore, anzi l'urgenza, Signore, di stare alla Tua presenza, di cercare il Tuo volto, l'anima nostra è assetata di Te e Tu sei colui che ci benedice, sei colui che riempie i nostri cuori di allegrezza, di gioia, di una vita esuberante. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché siamo qui alla Tua presenza. Signore, ne sentiamo il privilegio, ne gustiamo gli effetti, Tu ci ridoni forza, vigore e alla Tua presenza, davvero, noi godiamo del refrigerio. Signore, continua a benedire l'anima nostra, fallo, Signore, in questa sera per mezzo della Tua parola. Benedicici assieme, aiutaci a cercarti, Signore, aiutaci a lodarti perché Tu ne sei davvero degno. Benedici quanti non possono essere con noi in presenza, benedici quanti avrebbero potuto esserlo, ma non sono lo stesso con noi. Raggiungili, Signore, con la Tua grazia, con la Tua benedizione, col Tuo incoraggiamento. Oh, Signore, la nostra preghiera è davanti a Te e Tu non sei indifferente al nostro grido. Sappiamo, Signore, che Tu ci ascolti. Sappiamo, Signore, che Tu sei vicino a noi. Sappiamo, Signore, che Tu ci accogli alla Tua presenza e noi Te ne rendiamo lode, gloria ed onore. Insieme, Signore, ogni cosa la chiediamo in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Gloria al Tuo nome, Signore. Alleluia. Amen. Amen. Mentre siamo in piedi vogliamo passare velocemente alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, così come la troviamo nel libro di Giobbe, capitolo 23. Leggeremo fino al verso 9, dal primo al verso 9. Allora Giobbe rispose e disse Anche oggi il mio lamento è una rivolta per quanto io cerchi di contenere il mio gemito. Oh, sapessi dove trovarlo. Potessi arrivare fino al suo trono. Esporrei la mia causa davanti a Lui. Riempirei d'argomenti la mia bocca. Saprei quello che mi risponderebbe. Capirei quello che avrebbe da dirmi. Impiegherebbe tutta la sua forza per combattermi? No, Egli mi ascolterebbe. L'altro avrebbe un uomo retto a discutere con Lui. E sarei dal mio giudice assolto per sempre. Ma ecco, se vado a Oriente, Egli non c'è. Se a Occidente non lo trovo. Se a Settentrione, quando vi opera, io non lo vedo. Si nasconde Egli a Sud, io non lo scorco. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. E questo è un lamento per una circostanza ormai straziante, difficile che Egli vive a causa del combattimento con la quale Egli si troverà appunto a combattere. Satana toccherà prima tutto ciò che gli aveva, ciò che era in possesso. Poi arriverà a toccargli anche il suo corpo. E in questo stato di sofferenza, il suo desiderio, il desiderio grande di Giobbe, è di avere appello verso Dio, di avere la possibilità di accostarsi, di avvicinarsi, di parlargli. Ma ancora di più proprio di poterlo vedere, di poter dialogare con Lui. Egli è sicuro della sua giustizia, della sua condizione morale, ed è sicuro anche degli argomenti che avrebbe da portare davanti al Signore. Ma quello che è l'oggetto della nostra meditazione è proprio l'impossibilità di Giobbe, quello che Lui avverte in questo momento, è l'impossibilità di relazionarsi, di parlare con Dio. Dove trovare il Signore? Credo che tanti, tanti, tanti uomini, molte volte si esprimono nella medesima maniera, nel medesimo modo. Quando davanti a una situazione magari particolarmente difficile della loro vita, o quando magari ascoltano qualche notizia eclatante, forte, sorge questa domanda dove è Dio, dove si può incontrare Dio. Qual è la strada per la quale è possibile cercarlo e poi trovarlo, e poi presentare il dramma, la situazione che sto vivendo, o l'angoscia del mio cuore. Ci furono dei consigli sbagliati che furono dati a Giobbe, in modo particolare da Elifaz. E proprio nel capitolo precedente, Elifaz si esprime in questo modo, dicendo a Giobbe, Dio non è forse lassù, nei cieli, guarda lassù le stelle eccelze come stanno in alto. E tu dici che Dio sa? Può egli giudicare attraverso il buio? Fitte nubi lo coprono e nulla vede. Egli passeggia sulla volta dei cieli. Ma ringraziato sia il Signore, perché il Signore ha rivelato al nostro cuore la realtà, la verità delle cose. Egli ci conosce profondamente, in un modo meraviglioso, straordinario. Gesù arriverà a dire persino il numero dei capelli, Dio lo conosce. Dio conosce ogni dettaglio della nostra vita, ogni dettaglio della nostra situazione morale, spirituale, fisica, tutto ciò che riguarda la nostra vita. Altri, quando pensano a Dio e magari vorrebbero in qualche modo porre all'attenzione di Dio il loro dramma, la loro situazione, immaginano. Ma con otto miliardi circa, poco più, poco meno, di abitanti sulla terra, il Signore deve guardare proprio me. Il Signore conosce proprio ogni dettaglio della mia vita, della mia situazione. E ci sono cose più importanti, cose più urgenti, cose più grandi del mio piccolo problema, del mio piccolo dramma, della mia piccola vita. Non è così. Il Signore ci conosce profondamente, tutti quanti. Egli scruta i nostri cuori. In ebrei, capitolo 4, verso 13, è scritto non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Lo ripeto, non v'è nessuna creatura. non v'è nessuna creatura, non nessun uomo, nessuna donna, nessun adulto. Tutte le creature, dalla più piccina alla più grande, di età, di ordine sociale, il Signore la conosce perfettamente, nulla gli è nascosto. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi Suoi, di colui del quale dobbiamo rendere conto. E noi vogliamo ringraziare davvero il Signore, perché questo ci permette davvero di invocare il Signore con questa certezza, sicurezza, nei nostri cuori, che la nostra preghiera è ascoltata dall'Eterno, che il nostro grido è ascoltato dal Signore. Ora, ritorno un attimo sull'atteggiamento di Giobbe. Tutto quello che Giobbe vuole fare non è quello di cercare il Signore per poter comprendere più che altro il motivo del suo dramma, ma tutto quello che è nel suo cuore è quello di parlare con Dio per affermare la sua giustizia, la sua rettitudine. E voglio e vogliamo insieme ringraziare il Signore, perché il Signore ci ha rivelato che noi abbiamo bisogno di Lui, non per ostentare la nostra giustizia, non per ricordargli che noi meritiamo qualcosa in più degli altri, perché forse abbiamo fatto qualcosa in più degli altri, o forse perché noi siamo di coloro che hanno nei loro cuori dei buoni propositi a differenza degli altri. ma noi abbiamo imparato a cercare il Signore seguendo la via della croce, del Golgota, del Calvario. Lì abbiamo potuto vedere tutto il nostro bisogno di giustizia e che non vera assolutamente giustizia nel nostro cuore e nella nostra vita. Ora in questa sequenza di dialoghi ovviamente Giobbe viene accusato ingiustamente dai suoi tre amici. A Giobbe gli vengono comunicate delle cose ingiuste e inesatte e per questo lui cerca in qualche modo di far comprendere la sua posizione davanti a loro e vuole che Dio gli renda testimonianza di questa situazione. E in questo momento tutto quello che desidera Giobbe è appunto avere un contatto diretto col suo Signore. E in un momento di grande difficoltà egli avverte questa distanza questa lontananza e inizia un po' poeticamente a cercare di capire in quale direzione deve rivolgere il suo sguardo. E l'abbiamo letto a nord a sud ad oriente a occidente non lo scorbo sembra che Dio è lontano da me. Mentre riflettevo su questi passaggi mi veniva in mente l'espressione di Filippo quando rivolgendosi a Gesù gli disse mostraci il Padre e questo ci basta. Mentre Gesù gli rispondeva ma come da tanto tempo sono con voi e tu mi dici mostraci il Padre. Vedete come ragiona l'uomo e invece come si muove Dio come opera Dio Dio aveva mandato il suo unigenito figlio colui che poteva dire chi ha visto me ha visto il Padre perché io e il Padre siamo uno perché il Padre non è lontano da voi il Padre non è colui che nasconde la sua faccia dalle vostre vite dalle vostre situazioni dalle vostre angosce il Padre è colui che aveva mandato il figlio affinché chiunque avrebbe creduto in Lui sarebbe stato salvato sarebbe stato purificato da ogni peccato il Signore è davvero vicino fratelli e sorelle e Dio ci ha rivelati nella sua meravigliosa grazia che Lui non è affatto lontano distante e che noi non siamo dei perfetti sconosciuti dirà l'Apostolo Paolo sconosciuti forse al mondo forse agli altri forse la nostra vita i nostri problemi non sono compresi dagli altri l'Apostolo Paolo dirà è pur ben conosciuti perché il Signore ci conosce profondamente conosce i nostri sentimenti e la nostra causa gli sta davanti e un'altra cosa che volevo condividere con voi è il fatto che Giobbe poi parlerà con Dio avrà modo di relazionarsi con Dio e sicuramente anche noi un tempo eravamo lontani dal Signore volevamo avere un contatto con Lui cercarlo e poi qualcuno ci ha detto prega il Signore non ha importanza il luogo se a nord a sud a ovest a est non ha importanza se sei persino da solo o da sola ma prega il Signore invocalo chiedigli il perdono dei peccati ed egli è potente da trasformare la tua vita e il tuo cuore i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità l'ora viene anzi dirà Gesù a quella donna l'ora è già venuta è questa l'ora fratelli e sorelle proprio questa mentre stiamo qui insieme l'ora per la quale noi possiamo cercare il Signore lo possiamo incontrare possiamo sperimentare ancora una volta la sua grazia la sua sovrabbondanza la pienezza dello Spirito ma dobbiamo credere con tutto il cuore che Dio che Dio non è lontano non è distante non è assente non è preso da cose più urgenti o più importanti Dio è qui con noi ci sta guardando ci sta osservando e vuole benedire la nostra vita quindi allontaniamo ogni pensiero susurrato da Satana è forse anche un pensiero diciamo normale io non credo nella normalità mai quando ci accostiamo alla presenza di Dio io ritengo che quello è sempre un evento straordinario non voglio cadere mai nella consuetudine delle cose non preghiamo il Signore perché c'è l'ora della preghiera perché il mercoledì ci si deve incontrare e pregare è stato stabilito così io vengo perché ho un grande bisogno e sono convinto che Dio mi darà tutto quello di cui ho bisogno oggi questa sera l'ora viene anzi è già arrivata che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità vogliamo adorarlo fratelli e sorelle lo crediamo con tutto il cuore egli potrà rispondere efficacemente alla nostra supplica chi lo sa se proprio questa sera il Signore non toccherà il cuore di qualcuno chi lo sa se il Signore proprio ha riservato per oggi una sua prodezza un suo miracolo chi lo sa se proprio oggi da un momento terribile di depressione di solitudine di scoraggiamento può arrivare un sollievo soprannaturale dall'alto io credo che Dio può ogni cosa vogliamo presentare davanti al Signore gli infermi di questa comunità continuiamo a pregare per la sorella Graziella la moglie del fratello Lino Mazzi presentiamo tutte le sorelle i fratelli anziani della comunità alcuni non possono venire in presenza e quindi non vogliamo dimenticarcene di loro vogliamo presentare davanti al Signore i nostri cuori Amen Signore lavami purificami Signore umiliami alla Tua presenza vogliamo presentare davanti a Dio anche tutte le anime che si stanno avvicinando al Signore alcune con un peso davvero grande vi chiedo di pregare per una donna che si chiama Ornella per sua figlia preghiamo affinché Dio possa arrivare a raggiungere i loro cuori Amen se ci sono delle preghiere qui in assemblea delle richieste potete anche palesarle Amen 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 Vogliamo pregare anche per tutti i servizi per l'opera per tutti gli impegni che Dio possa davvero benedire ogni cosa Amen un cantico di adorazione di preghiera sentiamoci liberi fratelli e sorelle di innalzare il Signore e di pregarlo liberamente Amen grazie a tutti